E salve a tutti ragazzi qui come sempre il vostro Ara e benvenuti in questo nuovo video Questo è un breve video, una breve guida su come preordinare sul mio sito Aras Reviews Shop Trovate nella scheda lì in alto, pure qui sotto in descrizione se state guardando questo video tramite Youtube Comunque, perché sto facendo questo video? Perché ho cambiato da un po' il metodo di preordine Questo qui è molto molto più efficace e molto più figo Allora per esempio andiamo su questo Goku che è in preordine, apriamo ed ecco qui che siamo entrati nella pagina del prodotto Allora qui sotto la voce pagamento come vedete si può selezionare se pagare solo l'acconto oppure il prezzo totale della figura In base a come volete voi, mettiamo il caso che io voglio pagare solo l'acconto Ecco qua, lo aggiungiamo al carrello, andiamo ad aprire il carrello ragazzi E attenzione, attenzione qui c'è un altro passo da fare Se non volete pagare subito il costo di spedizione che si aggiungerà all'acconto Dovete selezionare, vedete, solo acconto, è scritto proprio qui tranquillamente Quindi vi azzerrà il costo della spedizione per adesso, per pagare l'acconto Quindi adesso completando l'ordine o tramite altri metodi di pagamento oppure tramite Paypal Insomma qui ci sono tutti i metodi di pagamento Ovviamente per versare l'acconto non si può usare il contrassegno Dicevo, completando l'ordine si andrà a pagare solo e soltanto l'acconto Che poi si andrà a scalare dalla cifra totale della figure Attenzione, qual è la cifra totale della figure ragazzi? E' questa qui, il prezzo totale Quindi dal prezzo totale noi andremo a scalare 9,90€ Quindi all'uscita della figure vi resterà da pagare 30€ Più i costi eventuali di spedizione Tutta questa cosa ragazzi è scritta anche qui nella descrizione del prodotto Di ogni prodotto in preordine se avesse ancora dubbi Quindi una volta che avrete effettuato questo procedimento che ho descritto prima Vi sarete aggiudicati una copia della figure Quando la figure uscirà Quei in questo caso ragazzi si tratta di luglio 2020 Io vi contatterò privatamente tramite email o tramite messaggio facebook Dipende dove volete voi anche whatsapp E vi comunicherò che sarà da saldare la restante cifra E quindi poi procederò con la spedizione Quindi ragazzi questo è il metodo per preordinare le figure dal mio sito E ripeto nessuno vi vieta di pagare anche direttamente il prezzo totale Tranquillamente Dipende dalle vostre preferenze Spero che sia tutto chiaro Se avete domande ragazzi lasciatemi un commento qui sotto Oppure contattatemi nei miei contatti privati Che trovate sempre qui sotto oppure sul sito Grazie a tutti per la visione Noi ci vediamo alla prossima Ciao da Are Collezionate sempre Grazie a tutti